Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del notiziario. Oggi è dedicata all'incontro promosso ieri a Gela dal Partito Democratico. Si è parlato del referendum sulle riforme costituzionali. Erano tutti presenti, c'era anche il segretario provinciale Giuseppe Gallè. Sentiamo. Partito Democratico di Gela, compatto in merito al referendum sulle riforme costituzionali, tutti per il sì. Appuntamento ieri sera nei locali dell'hotel Sileno. C'erano i fedelissimi del segretario Pepe Di Cristina e i renziani vicini all'ex sindaco Angelo Fasulo. Tutti insieme. Una tregua? Staremmo a vedere. Per il PD basta un sì per dire addio al bicameralismo paritario, per garantire stabilità e partecipazione, per cancellare poltrone e stipendi e per togliere poteri alle regioni inefficienti. Il referendum costituzionale con cui verrà deciso se approvare o respingere la legge Boschi, cioè la riforma della Costituzione voluta dal governo Renzi, si trarrà il prossimo ottobre. Si tratta di un appuntamento che ha una valenza politica non indifferente. Lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri ha detto più volte che si ritirerà dalla politica se dovesse essere sconfitto. Sui temi e sulle questioni ritroviamo la passione per la politica e riconvolgiamo il gruppo dirigente. Il sì per avere uno Stato più efficiente, più snello e per superare tutti quei limiti che in questi anni hanno reso l'Italia ingessata. Su tutti avere due Camere che fanno la stessa cosa, superare il snelle, superare le province. Insomma avere un'Italia più occidentale anche sul piano istituzionale. Le leggi verranno promulgate in tempi più brevi e la seconda cosa che tutti trascurano è la modifica del titolo quinto, che in altre parole significa la diminuzione delle proroghe che hanno le Regioni e i Comuni. Quindi per le cose importantissime tipo autostrade, strade ferrate, dove prima bisognava acquisire il parere delle Regioni e dei Comuni, che vengono direttamente programmate, progettate ed eseguite direttamente dallo Stato senza i pareri. Così le opere possono essere fatte immediatamente in tempi più brevi e più sicuri. Verranno eliminate molte poltrone perché il Senato verrà ridotto a 100 posti. Verrà eliminato il CNEL che prima era un posto di sottogoverno per politici trombati o per altra gente. Per altra gente è quindi un risparmio notevole di soldi, quindi è necessario votare sì, sia perché risparmieremo, sia perché avremo opere pubbliche di un'importanza notevole e che verranno realizzate in tempi più brevi. Siamo di fronte a una riforma che modernizza il Paese. Dopo l'esito del referendum, sul quale contiamo moltissimo, per questo stiamo mettendo in campo iniziative forti per un sì netto al referendum, potremmo dire di aver superato la Seconda Repubblica. Si parla dunque di referendum, ma l'avvertenza Gela a che punto è? Lo abbiamo chiesto a Peppe Di Cristina. Il caso Gela resta centrale. Noi stiamo parlando dell'avvertenza Gela e siamo sempre concentrati, come lei sa, abbiamo messo in campo diverse iniziative e altri ne metteremo. Nel frattempo un grande partito discute di altro. Il Partito Democratico è un partito concentrato anche in questa grande campagna referendaria nazionale, che è una campagna per il Paese e che non è assolutamente subordinata agli altri problemi, perché avere un Paese più efficiente, più moderno e con la possibilità di sapere che chi vince le elezioni può governare per cinque anni prendendosi la responsabilità, penso che sia un fatto assolutamente positivo. Tornano all'attacco quattro sindaci siciliani dopo la bocciatura in prima commissione affari istituzionali all'Ars del disegno di legge relativo alla modifica territoriale derivante dalla Costituzione dei liberi consorsi. I primi cittadini dei comuni di Gela, Domenico Messinese, Dini Scemi, Francesco Larosa, di Piazza Armerina Filippo Miroddi e di Licodia Eubea Giovanni Verga, in merito alla norma che sancive il passaggio dei primi tre comuni alla città metropolitana di Catania e di Licodia Eubea al libero consorzio di Ragusa, chiedono l'intervento dell'Anci Sicilia. Ci sentiamo vittime di un subdolo tradimento, aveva dichiarato Messinese dopo un lungo cammino a ostacoli tra leggi, dei libere consigliari, referendum, norme modificate e convocazioni palermitane inconcludenti. La democrazia non può essere sostituita da una oligarchia, hanno scritto i rappresentanti delle quattro amministrazioni comunali al presidente regionale del Lanci, Leo Luca Orlando. Della questione è stato investito anche il presidente del Consiglio nazionale dell'Associazione, Enzo Bianco. Con le nostre telecamere abbiamo seguito la premiazione del concorso promosso dalla FIDAPA di Gela, dai luce alla pace. L'incontro si è svolto alla Scuola Mattei nell'ambito delle giornate della legalità. Vediamo. Preside, continua la settimana della legalità, un altro appuntamento. Oggi però i protagonisti saranno davvero i ragazzi, perché insieme alla FIDAPA ci sarà una premiazione. Sì, è un concorso che da tempo aveva promosso la FIDAPA e che noi abbiamo accolto volentieri. Noi come scuola che ospita la FIDAPA, ma è un concorso che ha coinvolto tutte le scuole di Gela. A noi fa piacere avere ospite la FIDAPA perché è un'associazione in cui fanno parte tante mie amiche ed è un'associazione che promuove sempre e comunque la professionalità delle donne e promuove tante iniziative a sostegno della comunità gelese. Oggi parleremo di pace che ben si instaura all'interno di questo percorso della settimana della legalità. Saranno premiati i ragazzini che provengono da varie scuole e ci soffermeremo soprattutto su alcuni aspetti che riguardano appunto il mondo dei bambini, far capire loro come possono essere loro i primi appunto ad essere costruttori di pace. La FIDAPA offre agli studenti un ennesimo spunto di riflessione. I ragazzini possono davvero diventare costruttori di pace? Sì, senz'altro. Oggi è una giornata particolarmente speciale per noi perché viene sviluppato il tema internazionale dai luce alla pace. I ragazzi sono stati coinvolti, hanno partecipato fattivamente con disegni e hanno dimostrato di apprezzare questo momento di riflessione. I bambini ci insegnano tantissime cose, soprattutto quello che manifestano nel disegno sono le capacità cognitive, le capacità emotive e le capaci di socializzazione e questo avviene sicuramente attraverso l'arte. Per questo bisogna stimolare i bambini sull'arte, perché è la massima espressionalità che loro possono avere. Tra gli obiettivi che si proponeva in questo triennio c'è anche la pace, un problema oggi molto sentito. Praticamente questo progetto è stato portato nei 108 paesi in cui la FIDAPE è presente con lo scopo proprio di agevolare il confronto e il dialogo tra le popolazioni. Bisogna educare ad essere cittadini del domani inclusivi e pacifici. Assessore, si punta moltissimo al dialogo con i giovani e i giovanissimi che possono davvero diventare costruttori di pace anche nel loro microcosmo. Costruttori di pace e di legalità mi viene da sottolineare. In una settimana importante come questa, visto l'impegno di questa scuola proprio nei confronti di quelle che sono delle tematiche così sensibili, mi sembra ancora più giusto sottolineare questo binomio. Si costruisce la legalità insieme alla libertà nelle scuole. Questa è la missione più importante che noi come amministrazione ci proponiamo, quella di ingentivare queste manifestazioni affinché si possa essere cittadini più consapevoli e responsabili. È un'interessante iniziativa perché riflette l'espressività attraverso l'arte, ingenua direi, dei ragazzi delle scuole elementari, delle scuole medie, in cui questo concorso ha fatto emergere una significativa iniziativa verso una forma che nell'arte vede delle verità. Il nostro movimento di opinione raccoglie quelli che sono i bisogni del territorio e lo facciamo in sinergia con le scuole, con le istituzioni, perché proprio vogliamo essere da ponte, ma i giovani sono la speranza del domani. Da Gela, il polo industriale più a sud d'Europa, Transfrigo Route Italia, Sotir, l'associazione italiana, imprese di trasporto, lancia l'ultima chiamata l'Italia e l'Europa. Contro la crisi dei mercati, la concorrenza internazionale, la Sicilia, sia HUB del Mediterraneo, una vera piattaforma intermodale con strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, crocevie dei mercati dell'Europa che guardino ai paesi frontalieri e alle economie emergenti. Sono questi i temi che verranno affrontati sabato prossimo, 28 maggio, alle 9, nei locali dell'hotel Peretti, in occasione del convegno nazionale, prevista la presenza tra gli altri del presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, del sindaco di Gela, Domenico Messinese, del presidente regionale a Sotir, Salvatore Sciagure, del sottosegretario ai trasporti, la senatrice Simona Vicari. Saranno due le tavole rotonde moderate dalla giornalista Monica Dorno, in cui si alterneranno addetti ai lavori e politici. Convegno nazionale dell'Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli Porti Italiani, venerdì 27 maggio alle 10, nella sala plenaria del Castello di Falconara. Il tema che sarà affrontato è il servizio di ormeggio alla sfida europea. Saranno presenti tra gli altri il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, Vincenzo Melone, comandante generale del corpo delle Capitanerie di Porto di Gela, Pietro Carosia, comandante della Guardia Costiera di Gela, il primo cittadino Domenico Messinese, l'europarlamentare Salvo Pogliese, Cesare Guidi, presidente dell'Angopis. Darà il benvenuto Vincenzo Casciana, capogruppo ormeggiatori e Barcaioli di Gela. Nuovi spunti storiografici arricchiscono il dibattito sulla posizione geografica della Gela greca. Tra i sostenitori dell'obbligazione ricatese dell'antico sito vi è un libro del 1753 intitolato Delle memorie storiche dell'antica città di Gela nella Sicilia, scritto da un carmelitano dedicato a padre maestro Carlo Filiberto Pizzolanti. In una delle copie, però, l'originario possessore scrisse a margine delle note per contrastare quella tesi, supportando invece l'attuale collocazione in Terra Nuova con la citazione di autori antichi. E' questa la particolarità che rende unica l'opera edita nel XVIII secolo dall'antica stamperia palermitana di Francesco Valenza, impressore della Santissima Crociata. Il libro è stato donato al comune di Gela dal presidente della sezione cittadina dell'archeoclub, Nuccio Mulè, che lo ha ricevuto a sua volta da una signora gelese che vuole mantenere l'anonimato. L'assessore comunale alla cultura, Francesco Srenitro, apprezzando anche la bellezza delle tavole del testo antico, ha annunciato lo suo restauro e la consegna alla biblioteca comunale per la fruizione pubblica. Gli appunti, invece, verranno trascritti, saranno oggetto di ricerche e finiranno al centro di una giornata di studi per approfondire la questione geostorica. Questo volume necessita di essere restaurato, perché ha molti problemi di conservazione. Il comune di Gela lo prende, ringrazia archeoclubb di questo dono, che è un dono alla città. L'amministrazione si preoccuperà di verificare i costi di restauro, sicuramente il libro verrà restaurato, quindi verificheremo con un bravo restauratore quali possono essere i costi che metteremo sicuramente a bilancio per questo scopo e provvederemo alla bisogna. È un libro del 1753 che, come ha spiegato l'assessore, parla della storia di Gela e dell'obbligazione della Gela greca a Licata. Il libro perché diventa peculiare? Perché nella parte dove si sostiene che l'antico sito di Gela greca si trovasse a Licata, il possessore di questo libro che stiamo donando al comune ha messo delle note che contrastano il parere di questo Pizzolandi, in particolare riguardo il sito dell'antica Gela a Licata. Il possessore di cui si sconosce il nome, quindi anche lui anonimo, ha persone erudite sicuramente perché nelle note cita diversi lavori di autori antichi. Questo autore, rimasto anonimo, proprio appunta al margine del libro stesso, nella parte marginale, tutta una serie di note che si ricavano e sono contestazioni a quello sostenuto dal Pizzolandi nel testo stesso. Scaduti i termini per la presentazione delle istanze per richiedere l'assegno civico, gli uffici comunali di Gela hanno riscontrato in esattezza e nella documentazione di alcuni soggetti, in particolare sono state consegnate dichiarazioni sostitutive uniche o ISEE scaduti. Il settore servizi sociali ribadisce che per poter concorrere al beneficio dell'assegno civico va depositato esclusivamente l'indicatore della situazione economica equivalente, l'ISEE, in corso di validità. Solo per i cittadini interessati, l'assessore comunale Licia Abela comunica che si potrà integrare l'ISEE valido in modo che si possa rimediare a questo errore. La proroga è stata fissata per il 31 maggio prossimo. Oggi gli chef si misureranno in una competizione per realizzare dei piatti completamente gluten free. È una cucina che chiaramente è attenzionata a molto di più in questo periodo perché chiaramente la celiachia è un disturbo che è stato approfondito soltanto negli ultimi decenni. Si va a valorizzare, a portare avanti questo Q2MP che è un po' nascosto alla gente di uscire fuori casa che possono andare tranquillamente nei ristoranti e nella ristorazione a mangiare senza problemi perché molta gente, molti operatori sono già qualificati e si stanno ancora continuando a qualificare. Solitamente noi cerchiamo di fare un'alimentazione quasi comparata all'alimentazione che ne facciamo ai nostri clienti cercando di non far capire e distinguere le due diverse pietanze tra gli altri commensali. Dunque, metterli allo stesso livello e non metterli neanche in disagio all'interno di un contesto, di un evento, di un banchetto. Le cucine che devono operare per quanto riguarda la preparazione di pasti gluten free devono essere degli ambienti totalmente separati dagli ambienti della cucina classica. Recentemente la celiachia è uno degli argomenti più diffusi, si sono creati gruppi sui social network ecco quanto la diffusione di questa notizia poi ha facilitato anche il riconoscimento della stessa. L'impatto mediatico è fondamentale, io per questo ringrazio l'AIC per il supporto che sta dando questa nostra terza manifestazione. Gela diventa la capitale del discorso sulle celiachie e del gluten free, non a caso. È un percorso che stiamo portando avanti proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica ma soprattutto gli operatori della ristorazione su questo tema. Sui social il confronto è sempre molto vivo, cioè chi soffre di questo disturbo si confronta con gli altri, chiede informazioni. Questo è anche molto importante per non sentirsi in un certo senso isolati? L'isolamento c'è ed esiste perché non tutti i ristoranti ad esempio hanno la possibilità di offrire un percorso gluten free. Così significa percorso gluten free? Dall'aperitivo al dolce, esteticamente e cromaticamente lo stesso percorso degli altri. È chiaro che il tam tam mediatico ha scatenato una sensibilità diversa e mi auguro che continua a crescere. Assessore, dedicare una giornata a chi soffre del disturbo di celiachie è importante per il principio nobile dell'inclusione anche quando si sta a tavola. Ma è importante anche per effettuare una formazione nei confronti dei ristoratori gelesi, insomma della collettività nostra sul tema della celiachia che ancora oggi non è molto compresa tra i ristoratori locali. Un avviso pubblico rivolto ad enti pubblici, associazioni, comitati costituiti, fondazioni e istituzioni ecclesiastiche del territorio per perdisporre il programma delle attività culturali ludico-ricreative sportive da inserire nel cartellone delle manifestazioni del 2016. Quanto è emanato l'amministrazione comunale di Gela su iniziativa dell'assessore Eugenio Catania a caccia di progetti relativi ad attività di animazione culturale, spettacolare, sportiva e musicale. Le proposte progettuali dovranno comprendere, oltre alla prestazione artistica, gli allestimenti e i servizi tecnici necessari, il relativo coordinamento, compreso l'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, l'individuazione del sito e l'indicazione delle date di svolgimento delle attività. Il calendario definitivo sarà comunque stabilito dall'amministrazione comunale allo scopo di evitare sovrapposizione di date con altre manifestazioni. Per lo svolgimento e la buona riuscita delle manifestazioni che l'amministrazione comunale intenderà sostenere, verrà offerto il supporto tecnico-logistico. I soggetti interessati potranno presentare stanza entro il prossimo 9 giugno. Ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale, che apriamo parlandovi del libro scritto dal magistrato siracusano Simona Alloiacono, finalista del premio Strega 2016, presentato nei locali della libreria Mondadori a Gela. Vediamo. In Sicilia mogli abbandonate e spose gravide, figlie ripudiate o sfuggite all'emarginazione, si riunirono in una casa ai margini dell'abitato e lì iniziarono a condividere una vera esperienza comunitaria. Era il 1600. Vennero chiamate le streghe di Lenzavacche, furono però fraintese, bollate come folli, viste come corruttrici e stigatrici del demonio. Se ne parla nel libro scritto dal magistrato siracusano Simona Alloiacono, finalista del premio Strega 2016. Un bel dono, un'occasione veramente di grande gioia, di condivisione anche con gli altri autori finalisti. Una bellissima soddisfazione, un bel percorso anche umano, spirituale, molto bello, molto intenso. Le tematiche sono certamente forti, nel senso che è un libro sulla diversità, sull'emarginazione, sulla tutela dei piccoli, dei deboli e quindi effettivamente affronta dei temi a me molto cari e di grande impatto anche emotivo e quindi speriamo che possa avere fortuna e che possa fare un bel percorso. Il volume è stato presentato nei locali della libreria Mondadori di Gela. L'iniziativa è stata introdotta da Lina Orlando. A relazionare sul testo è stato il dirigente scolastico Sandra Scicolone. Alcuni brani sono stati letti dall'attrice teatrale Maria Giannone. Presentare un libro come Le streghe di Lenza Vacche di Simona Alloiacono è un'esperienza importante. L'importante è non solo per chi è stata insegnita di accompagnare la scrittrice in questa chiacchierata, ma anche proprio per Gela, perché questa è una scrittrice che ha un passato, un presente molto ricco, molto particolare, è una donna, un magistrato, che scrive per passione e che ha scritto un libro veramente mirabile, dai contenuti profondi che affrontano il tema dell'amore, della pietà, della disabilità, dell'ignoranza che circonda tutto ciò che è diverso, ambientato in una Sicilia ancestrale o quasi, sebbene negli anni 30, ebbene una donna magistrato e scrittrice che con questo libro può sicuramente raggiungere grandi risultati. Pubblicato è il primo concorso finestre e balconi fioriti, aperto a tutti coloro che nel centro abitato del comune di Gela abbiano la disponibilità di una finestra, un balcone, un terrazzo, una vetrina o particolari abitativi visibili dall'esterno. L'aggiunta comunale, su proposta dell'assessore Francesco Salinitro, ha approvato bande e regolamento scaricabili dal sito ufficiale del comune alla sezione delibere e determine. Le istanze vanno presentate tra l'1 giugno e il 31 luglio prossimi. All'istanza vanno allegate tre fotografie. I primi tre classificati verranno riconosciuti premi in denaro. Un premio speciale anche per il miglior terrazzo balcone o vetrina di Via Venezia. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere al settore sport, turismo e cultura. Sono stati prorogati termini di scadenza del bando per l'assegnazione di contributo per la fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo relativo all'anno scolastico 2015-2016. Lo ha reso noto l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Gela, Alicia Abela. Il termine per la presentazione delle domande di buono libro viene posticipato fino al prossimo 30 maggio. I moduli di domanda vanno ritirati negli uffici dell'istituzione scolastica frequentata dallo studente interessato oppure scaricati sul sito del comune di Gela www.comune.gela.cl.it Buone notizie per gli operai dell'ex provincia in sit-in permanente da quasi tre settimane dinanzi al portone d'ingresso dell'oggi libero Consorzio dei Comuni. Versata ai 32 dipendenti della Caltanissetta Service che si occupano della pulizia e manutenzione delle strade del Nisseno, una delle cinque mensilità rivendicate. Soddisfatti a metà i dipendenti della società partecipata, accompagnati dalle sigle sindacali CISLE, FISASCAT, CGL, FILCAMS e USI hanno però ancora una volta confermato lo stato di agitazione che proseguirà ad oltranza fino a quando non riprenderanno a lavorare. Degli accordi presi, precedentemente delle riunioni che abbiamo fatto, l'amministrazione ha pagato una mensilità, la mensilità di dicembre. Ora avanziamo, ci ha promesso che ogni mese ci daranno gli altri stipendi rimanenti che abbiamo retrati. In più si vocifica che dovremmo iniziare a lavorare, credo che se non è questa settimana, all'inizio della prossima settimana, dobbiamo iniziare a lavorare. Di concreti che abbiamo, che domani dovremmo avere una riunione con la società per stabilire le squadre che dovrebbero iniziare a lavorare. Non credo se saranno a turno oppure saremmo tutti insieme a lavorare, questo ancora non lo sappiamo, definitivamente. Un po' di sollievo ce l'abbiamo, dandoci la notizia di iniziare i lavori, credo che una piccola soddisfazione l'abbiamo. Sperando che iniziando a lavorare continueremo fino all'infinito, non dovremmo fermarci più di nuovo e fare di nuovo questo sit-in. Noi rimarremo qua fino a quando chi di dovere venga a dirci domani iniziate a lavorare. Allora da quel giorno noi chiuderemo il sit-in, ma fin quando non ci hanno questa risposta noi saremo qua a continuare la nostra realtà. Stiamo cercando di risolvere il problema dei 32 dipendenti della società in house, ha spiegato il commissario straordinario del Libero Consorzio dei Comuni, Rosalba Pambini, telefonicamente raggiunta per garantire l'attività lavorativa degli operai che a breve si occuperanno del disboscamento delle vie di fuga delle strade del Nisseno, piene di erbacce. Ciò che è certo, ha assicurato il commissario straordinario dell'ex provincia, è che è forte la volontà di venire incontro alle esigenze dei lavoratori che nei prossimi giorni potranno percepire anche le altre mensilità arretrate. È previsto per giovedì 2 giugno prossimo al Palacossiga dalle 10 il Twirling Open Day. L'obiettivo è quello di diffondere la pratica della disciplina sportiva e artistica ancora poco conosciuta. Prevista la presenza di campioni nazionali e regionali, l'evento portò la firma dell'associazione sportiva Niscemi e Twirling e del comitato regionale. È tutto, con questa notizia abbiamo concluso. Grazie per la gentile attenzione, vi ricordiamo che servizi, notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro sito internet all'indirizzo web www.tg10.it e vi ricordiamo inoltre che il canale 10 è dotato di un altro strumento che è il televideo, sempre aggiornato. Grazie, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.